Di servizi che rappresentano motivo di grande tensione fra i cittadini, che si vedono spesso costretti a pagare more o interessi sulle bollette per via del mancato pagamento. A tal proposito i consiglieri di minoranza Michele Ciliberti, Giuseppina Pastorino e Giuseppina Fierro hanno chiesto ufficialmente al sindaco di istituire un tavolo tecnico per la risoluzione della problematica in questione, coinvolgendo i vari gruppi consigliari, le autorità competenti, nonché i vertici di poste italiane, affinché si siedano al tavolo e prospettino soluzioni immediate ad un problema che si ripete da troppo tempo.